A Cremona l'affluenza alle urne per le elezioni politiche sembra essere stata abbondante o comunque superiore a quella del 2018. La prima rilevazione ufficiale attesta che fino a mezzogiorno ha votato il 24,95% degli elettori nel comune. Abbastanza alta rispetto alle ultime, molto alta. Quindi più del previsto, perché si parlava di astensionismo? No, no, direi che i ritmi sono abbastanza sostenuti. Sembra una buona partecipazione, c'è un'affluenza continua, non sovraffollamento, però direi che c'è una buona partecipazione. Mi sembra abbastanza buona, scorrevole anche perché vedono quando c'è coda che rallentano automaticamente un attimo, poi riprende l'afflusso regolare. C'è stato movimento. Alle ore 12 abbiamo rilevato che l'elettorato che ha partecipato è il 24,95% per quanto riguarda il comune di Cremona. Ho visto che in tutti i seggi c'era un flusso di partecipazione abbastanza elevato, cioè sostanzialmente non c'era interruzione, non c'era soluzione di continuità per quanto riguarda le elezioni. Nelle schede elettorali era presente il tagliandino antifrode che i presidenti dei seggi avevano il compito di staccare. Non è una novità nel senso che le elezioni precedenti, anzi meglio la consultazione elettorale precedente alla referendum, il tagliandino antifrode era presente, per cui l'elemento di staccare il tagliandino antifrode dalla scheda elettorale era già stato provato e sperimentato. I cittadini che abbiamo intervistato erano determinati nella loro scelta che avevano preso per tempo ed alcuni di loro ci hanno raccontato quali fossero le questioni più rilevanti. Ero già sicuro della scelta, sì sì. Deciso, assolutamente deciso. So già cosa votare. Già deciso prima di venire al seggio. Energie rinnovabili sicuramente è il primo argomento per cui ci ha spinto a votare il partito che abbiamo votato.